In questo video verranno analizzate le azioni possibili sui singoli procedimenti di conciliazione, da chi possono essere fatte e considerando lo stato in cui si trova il procedimento. L'applicazione mostrerà all'interfaccia solo i pulsanti delle operazioni permesse tenendo presente il ruolo dell'utente che lo sta visualizzando. Gli utenti con ruolo segretario, dopo essersi assegnati il procedimento, possono compiere tutte le operazioni. In ogni momento il procedimento di conciliazione può essere visualizzato in tutte le sue parti mediante l'apposito pulsante. Cliccando sarà possibile visualizzare le parti coinvolte, istante, controparte, corecom, i dati della controversia, appuntamento e informazioni sull'eventuale udienza, data, link per accedere al momento di convocazione, modalità di convocazione, precedenti reclami o tentativi di conciliazione, richieste fatte dall'utente alla compilazione del formulario. E' inoltre possibile visualizzare il fascicolo documentale mediante l'apposito bottone. Nel fascicolo sono presenti tutti i documenti inseriti dalle parti e generati dal sistema nella gestione del procedimento. Questo costituisce la storia del procedimento. Inoltre, sempre mediante l'apposito pulsante, è possibile visualizzare le proposte fatte durante la vita del procedimento. Infine, nella toolbar sono presenti i bottoni per compiere le azioni sul procedimento.